Si comincia a intravedere un po' di movimento turistico in città. Dopo il pienone dovuto alle iniziative sportive come Giro d'Italia, tornelli tennis e internazionali di pattinaggio, gli alberghi cominciano ad avere le prime richieste anche per le ferie estive, che fanno presagire che sarà una buona stagione estiva. Per il momento le prenotazioni riguardano prevalentemente turisti italiani, ma verso settembre ci sono interessi anche da parte di comitivi straniere. Ci sono anche prenotazioni di una settimana e più lunghe, secondo alcuni albergatori, ma la gente ha ancora un po' di incertezze e timori sugli spostamenti. Il dato positivo è che comunque lentamente si sta rimettendo in moto tutta la macchina. Giugno si prospetta, diciamo, interessante con qualche gruppo, anche se la maggior parte del lavoro verrà sicuramente con i clienti business durante la settimana. Nel fine settimana ci sono molti motociclisti che vengono anche dall'estero, quindi Germania, anche Svizzera. Agosto, luglio ed agosto, progressivamente saranno sicuramente dei mesi, come lo scorso anno, molto importanti dal punto di vista dell'affluenza, anche perché i periodi di soggiorno saranno di lunghezza media. Il problema è che le prenotazioni verranno quasi tutte sottodate, perché non tutte le persone sono ancora confidenti nel viaggiare, perché sebbene le vaccinazioni stiano andando bene, anche gli spostamenti si possano, diciamo, già, gli spostamenti da ragioni sono possibili. La confidenza c'è nel viaggiare, anche la voglia di viaggiare. Quello che temo, e si teme tutti quanti, è che ci possa essere, diciamo, un fattore economico che possa frenare le persone, ecco, questo sicuramente. Da settembre a ottobre, invece, molti gruppi, anche internazionali. L'evento del Giro d'Italia l'ha dimostrato. C'è stato molto fermento, la prossima settimana ci sarà l'inaugurazione del Maxi, quindi tutta la città è un po' in fervore proprio per questo motivo, perché è un bel evento, con un bellissimo museo, che sarà un'attrazione ulteriore per la nostra città. Ci sono molte richieste di prenotazioni, qualche gruppo, soprattutto per il periodo di giugno e luglio e qualche cosina ad agosto. Credo che ci sia bisogno di un po' più di certezze, la gente sta aspettando, ma quanto prima inizieranno le prenotazioni. Bisogna essere ottimisti.